Bentornati su MyFootballGersey. Avendo ormai visto quasi tutte le maglie ufficiali dei top club per la stagione in corso, andiamo a vedere qualche anticipazione non ancora confermata per la prossima stagione. Questa è la prima maglia del Real Madrid in versione player. Grazie a tutti. Come detto non è ancora ufficiale, però devo dire che mi piace tanto. La rifinitura in nero questa volta, questa trama diciamo che nel tessuto è veramente molto bello. Vedremo se sarà la versione ufficiale, ma questa è veramente una bella diciamo versione. Il costo, lo vedete qui sopra, molto basso per una maglia che arriva anche molto velocemente. Se volete ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere sul sito perché insieme a questa troverete tantissime maglie per la prossima stagione e per questa in corso. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità della maglia. prima però non mi stancherò mai di dirvi, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie a tutti